Oggi sabato 15 marzo ricorre il cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di Sua Eccellenza Monsignor Raffaele Calabro, vescovo della diocesi di Andria. Nato a Minervino di Lecce il 10 luglio 1940, ha frequentato gli studi al sacerdozio nel seminario regionale di Molfetta e nel seminario romano maggiore, conseguendo la laurea in teologia e utroque iures presso la pontificia Università Lateranense. Ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale il 15 marzo del 64 da Sua Eccellenza Monsignor Gaetano Poglio presso la cattedrale di Otranto. E' stato eletto vescovo di Andria il 19 novembre del 1988 e consacrato il 6 gennaio 1989, iniziando il ministero episcopale nella chiesa di Andria il 29 gennaio sempre dell'89. Proprio in occasione del suo cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale e per ringraziarlo per quanto fatto in questi anni ad Andria e per la sua opera pastorale, domenica 16 marzo alle ore 19.30 presso la chiesa di San Domenico si svolgerà un concerto dell'orchestra da camera federiciana diretta dal maestro Michele Lorusso. E la scelta della chiesa di San Domenico non è affatto casuale, infatti l'antica chiesa, dopo anni di abbandono, è finalmente stata restaurata grazie proprio alla tenacia, alla sensibilità e alla volontà di Monsignor Calabro, al finanziamento erogato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e ai contributi economici della diocesi. L'intero complesso monastico dei padri domenicani ha rivestito nel corso dei secoli un fondamentale ruolo religioso e culturale e non solo a livello locale. Al suo interno, infatti, era custodito il busto del Duca Francesco del Balzo, attribuito a Laurana, una delle opere di scultura più pregevoli della nostra regione. Ecco dunque che la comunità diocesana vuole festeggiare il suo vescovo in quello che è un luogo simbolo, verso il quale Monsignor Calabro ha manifestato sempre grande attenzione sin dal suo insediamento in diocesi.